Diego, una vittoria a dire poco importante per la classifica, per il morale, per tutto? Sì, una vittoria importantissima, credo meritata, ma soprattutto sono contento per la squadra, per la tifoseria, per la società, per lo staff, perché comunque stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando bene e poi io sono convinto che poi alla fine i frutti arrivano, quando lavori bene, lavori forte, te leni bene, arrivano queste prestazioni, sicuramente dovremmo mettere a posto qualcosa, ma dobbiamo continuare così con questo entusiasmo. Una squadra molto quadrata, fin dalle prime battute, che ha subito messo in difficoltà agli avversari. Sì, credo che abbiamo sofferto leggermente un po' di palleggio il primo tempo del desiutilo, perché comunque abbassavano tanti giocatori a palleggiare, però poi se vai a vedere, a stringere hanno creato veramente poco in avanti, una palla in aria abbiamo preso rigore e poi i gol, però siamo stati bravi, poi il secondo tempo che abbiamo alzato il paricentro siamo andati a prenderli alti e sono contento, sono contento per i ragazzi, per la squadra, come ho detto prima, dobbiamo continuare così e sicuramente lavoreremo per andare a vincere il Reggio. Vero i due gol li ha segnati Daniele Verde, però la tua oggi è stata veramente una partita da trascinatore, è lottato su tutti i palloni, veramente una partita da picco, come vuole il punto. No, ma sono contento, contentissimo per Daniele, sicuramente il gol mi manca, ci sto provando, però poi non sono un attaccante che si focalizza solo sul gol, sono contento di poter aiutare la squadra, di averla aiutata e bene così. Sì, poi ho sempre messo comunque prima di tutto la squadra e i miei compagni e questo deve essere lo spirito di tutti. Primo tempo un po' più isolato, secondo il tempo il mister ti ha affiancato esposito, come ti trovi meglio? Sicuramente quando ho una prima punta che mi toglie un po' di lavoro sporco, ho più spazi e mi trovo leggermente meglio, però poi comunque anche il primo tempo mi sono ritagliato le mie occasioni, anche in controchiere, quindi come il mister preferisce io dove mi dice di giocare gioco, quindi non sono questi problemi, è importante essere quadrati, solidi, come lo siamo stati e come ho detto vittoria importantissima. Per ultimo ti chiedo ora, ci aspetto un'altra partita importantissima a Reggio Emilia, praticamente un derby per la città. Sono tutte partite difficili, tutte partite tirate, come abbiamo visto, credo che stiamo facendo da come sono arrivato, perché poi le prime due del giorno di ritorno non c'erano, ma stiamo facendo un grande cammino e purtroppo dobbiamo farlo, dobbiamo continuare a farlo, un po' perché comunque le squadre sotto nel giro di ritorno fanno tutte punti, mancano nove partite, nove finali e dobbiamo cercare di fare più punti possibili, siamo lì, merito nostro e dobbiamo continuare così a spingere. Grazie. 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 Grazie.